Buonasera e benvenuti alla domenica sportiva e le merendine di maggio non torneranno mai più. Voi, voi avete mai battuto un calcio d'angolo? Ecco, se lo avete fatto vi sarete accorti che la banderia del calcio d'angolo sul campo è l'unico punto dal quale la porta non si vede, lì lontana è raggiungibile di profilo e per questo però ancora più seducente. Ecco, i calciatori normali che per comodità chiameremo i geometri, da lì la buttano nel mezzo. Poi ci sono i Pitagora del gol, gli Euclide del passaggio, i Cartesio del tiro ad effetto che loro, le leggi della geometria, le scrivono e quando la realtà si arrende alla loro immaginazione, loro segna. Un uomo di più, un uomo con i baffi, una maglietta giallorossa, il numero 11 e il 37 di piedi, di gol sul calcio d'angolo, ne ha segnati 10. Quest'uomo è Massimo Palanca. Possiamo vedere le immagini. In questa ecco il primo gol di Palanca ed è un gol sul calcio d'angolo, uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma ad opera di Zanini che ha atterrato Rocca ed è il rigore di Bartolomei. È il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Ancora un errore di Spinosi ed ecco Palanca che è stato prontissimo a mettere in rete a punire Conti con questo tiro violentissimo sulla sinistra. Ed ecco ancora Palanca al secondo tempo, aspetta l'uscita di Conti, non fila. È la terza rete. Buonasera Palanca, grazie di essere intervenuto. Buonasera a tutti. Grazie mille. Senta, cosa ricorda di quel pomeriggio, di questa tripletta all'Olimpico? Il tre gol, la dinamica me la ricordo benissimo, ma praticamente tutto quello che è avvenuto dopo che mi ricordo molto più volentieri perché il nostro allenatore era Carlo Mazzone, romano, sanguigno e a questa partita ci teneva in modo particolare. Poi i festeggiamenti a Catanzaro dove praticamente chiamarono quella giornata dopo che sul tabellone luminoso dell'Olimpico venne fuori del 3-1 con Palanca, Palanca, Palanca e di Bartolomei, chiamate Roma 3-1-3-1. Parliamo del gol dal calcio d'angolo. Il primo gol all'Olimpico è sul calcio d'angolo. E qui mi chiedo, è fortuna, è casualità o viceversa duro allenamento? Insomma, come faceva a segnare dalla bandieria? Noi che cosa facevamo? Quando tiravo il calcio d'angolo io c'era un giocatore che era Claudio Ranieri, l'attuale allenatore del Chelsea, che praticamente saltellava davanti al portiere avversario. Che succedeva? Che il portiere per un attimo non vedeva la palla. Quando gli riappariva, era troppo tardi, o gli si infilava sul primo palo o si infilava sul secondo palo e lui si trovava un po' spiazzato. E qui ho letto anche, c'è chi dice che anche il vento la aiutasse. Questo mi ha colpito ancora di più perché oltre ad essere un gesto così irrazionale, geniale, addirittura si accorda con... Io questo tipo di calcio praticamente l'ho affinato a Catanzaro, dove Catanzaro notoriamente... Sotto al vento. Eh, c'è il vento. Perciò io cercavo di sfruttare, ma non soltanto sui calci d'angolo, anche sulle punizioni. Io tiravo delle punizioni addirittura vicino al cerchio del centrocampo. Quando i portieri venivano a Catanzaro venivano sempre con il timore delle punizioni. Lei ha portato i suoi scarpini. Possiamo vederli? Le spiace se li adoro come un idolo. Ecco. Abbiamo gli scarpini di Massimo Palanca, numero 37, quelli con cui calciava questi fenomenali calci d'angolo. Non sono proprio quelle. Non sono proprio quelle. Però possiamo notare, possiamo notare che sono effettivamente molto piccoli. Qualcuno avessi dei dubbi, in realtà sono effettivamente piccoli. Ha qualche altro cimelio? Sì. Vediamo. Ho una maglia. Questa è la maglia cui tengo in maniera particolare. Questo è il numero 11, naturalmente. Sì, è straordinaria. Perché questa è la maglia. Ma è lana fuori cotone sulla pelle? Non lo so. Non penso che questa... È irritante questa proprio. Cioè a fine partita si è tutto viola. Effettivamente sì. Questa qui praticamente è la maglia che ho usato a Reggio Emilia, l'ultima gara di campionato del 1976. Praticamente ha 27 anni. L'anno in cui siete venuti per la prima volta in Serie A. È un oggetto straordinario. Anche per fattura, stile, minimalismo, precisione, insomma. È proprio anche proprio... Sì, adesso si vedono le maglie con tutti i marchi, i marchietti. Questa qua è proprio essenziale. È molto più elegante. È molto più... Ma noi non piacciono i marchi marchietti. È molto più fini, certo. Io vorrei rivedere adesso di nuovo il suo gol sul calcio d'angolo. Un attimo. Perché poi devo fare una proposta. Vediamo di nuovo il gol sul calcio d'angolo. Allora, abbiamo ricostruito fedelmente la situazione. C'è un calcio d'angolo a favore del Catanzaro. Ranieri sta davanti al portiere per dargli... Chi era il portiere della Roma in quell'occasione? Paolo Conti. Paolo Conti. Palanca che sta sull'ala sinistra. Non ha i batti. Fa niente. Va bene. Va a battere il calcio d'angolo. La difesa della Roma molto arcigna e schierata. Hai bisogno del vento? Insomma, non è il massimo, però. Eh, la schieriamo meglio, scusa. Va bene, va bene. Lasciamola così, è più facile. Sì, sì. Vuoi il vento? Perché a Roma non ce l'avevi, però ti diamo una mano. Va bene. Allora, tu sei pronto a battere? Ti dà un consiglio. Per alzarla sul buteo è più comodo farla così, capito? Più la colpisce da sotto. Vediamo che succede. Proviamo a fare un po'. Devi provare a fare l'effetto. Io comunque col vento ti aiuto, eh. Aspetta, eh. Vado col vento? Sì, ma se tu soffi qua, la palla va di là. Ah, giusto. Soffio da questa parte. Fallo laterale. Va bene. Allora, la prossima volta ci alleniamo un po' meglio, perché visto che comunque la carriera da calciatore è finita. Fai un campo un pochino più grande e usiamo i piedi, che è meglio. Ok, allora ci vediamo la prossima volta usando i piedi. Ok. Grazie. Grazie a te. A presto.